Io mi chiamo Luca Fabbroni, sono nato a Gorizia in agosto 71, quindi sono ormai a 53 anni. Praticamente, nonostante che avessi quasi la bocca completa, non avevo niente di mio, avevo parecchi ponti, mi ero trovato anche bene 20 anni fa, poi col tempo non potevo neanche più sorridere. Mi ha preso la paradontite, paradontose, e praticamente non dovevo parlare con la bocca chiusa, quindi riuscivo a mangiare la pena, dovevo mangiare piano perché mi dondolarono tutti i denti, e lì era la scelta dentiera o il dottor Palmas. Eh, come ho detto prima, bisognava sorridere a bocca chiusa, a denti straight, a bocca chiusa, perché come sollevavo le labbra si vedevano le radici, quindi era umore pessimo. E mangiare non più come prima, perché cominciavano a dondolare i denti, si rischiava la perdita totale nei denti. E ho scelto anche, diciamo, la linea superior, che è in zirconio, perché ho detto, io sono convinto che questa cosa mi durerà per i prossimi minimo 30 anni. E ho scelto questa opzione qua, e devo dire la verità che non mi son pentito assolutamente. Anzi, l'avrei fatto anche prima. Guarda, non sono ancora andato a casa, quindi i parenti non mi hanno ancora visto. Ma guardami, finalmente rido, sorrido, ho mangiato, non mi sono neanche accorto. Io pensavo di avere un dubbio all'inizio, di avere una cosa strana in bocca. Ho mangiato come prima, prima dei problemi. Ahahahah!